Salve signore e signore, in questo video parleremo di scrittura creativa. Questa lezione è disponibile anche in forma scritta su agenziaduca.it Se non mi conoscete, io sono il Duca di Baionette e con il mio corso avanzato di scrittura creativa e sceneggiatura ho formato oltre 200 studenti. E diversi loro hanno pubblicato con case editrici come Mondadori, PM, Delos, Acheron Books, Mosca Bianca e tante altre. Questo corso base gratuito, nonostante sia molto lungo e approfondito con 30 lezioni complessive, funziona da introduzione prima di procedere allo studio del corso avanzato vero e proprio. Anche lui è online con comode video lezioni a pagamento. Questa è la sesta lezione del corso base di scrittura. Se hai perso l'introduzione al corso base di scrittura e sceneggiatura, la lezione 00 che fa da introduzione a entrambe le porzioni del mio corso base, ti consiglio caldamente di recuperarla e di procedere con le lezioni in sequenza. Iniziamo. Uno dei problemi più comuni nella narrativa è quello del narratore che racconta, cioè riassume, troppo e mostra, cioè drammatizza, troppo poco. A questo si aggiunge il tipico problema gemello, quando mostra lo fa in modo confuso per l'assenza di un punto di vista coerente. Il tipico punto di vista incoerente è quello che in certi momenti favorisce l'immersione, i momenti in cui la scena è filtrata bene. E in altri momenti diventa chiaramente solo un narratore che parla delle vicende. Salta il filtro ben ancorato nell'istante presente, in pratica. Come se guardasse i fatti con calma e distacco, magari a volo d'uccello, invece di viverli nel momento preciso. Guardiamo un brano come questo, assolutamente normale in narrativa. È ispirato dalla bozza di un'opera steampunk che ho revisionato nel 2012, ambientato in un 800 italiano con armature potenziate e mech. Io e altri due siamo stati costretti a levarci l'armatura e tuffarci sott'acqua per spingere. Alla fine in quattro e col sergente che bestemmiava a denti stretti e minacciava di stenderci come una raffica, siamo riusciti a recuperare i mech e uscire dal fiume. L'abbiamo scampata per un pelo, c'eravamo addentrati nel bosco quando è arrivata davvero una pattuglia annunciata dai sibili dei motori. Un sidecar scortato da due granchi. Li abbiamo osservati acquattati tra gli alberi, mentre puntavano il riflettore sugli acque nere e poi ripartivano in direzione del garda. Questo brano, dal punto di vista narrativo, è spazzatura. Una scena è una scena, ovvero è una sequenza vissuta qui e ora di azioni importanti vissute dal personaggio. Sono azioni importanti in quanto mandano avanti la storia, consolidano la visione che si voleva dare alla vicenda e sono strutturate con un meccanismo di obiettivo e conflitto. Se non c'è tutto questo, il brano non serve a niente e va tagliato. Con obiettivo e conflitto intendo questo. Il protagonista vuole qualcosa. Qualcuno si oppone al conseguimento dell'obiettivo. Il conflitto risultante si conclude con il fallimento, con il conseguimento reale o con il conseguimento fittizio del risultato. Questo argomento verrà affrontato nel corso base di sceneggiatura, la seconda parte di questo corso base. Nell'esempio riportato, poi, usare il raccontato in questo modo, con il protagonista in prima persona, trasforma la vicenda vissuta qui e ora in un diario, in memorie scritte dopo gli eventi, e non è questo l'effetto che si voleva ottenere. Spesso la prima persona, se scritta al passato, porta istintivamente a fare questo errore e a passare dalla narrativa immersiva a una narrazione che ricorda quella di un diario o di un blog, usando un esempio più moderno. La prima persona è straordinaria, favolisce l'immersione e risolve automaticamente diversi problemi tecnici tipici della terza persona, ma va scritta al presente e non va trasformata in un blog. A meno che la tua opera non sia qualcosa di diverso dalla narrativa, come un libro-blog. Qui sto sempre e solo parlando di narrativa vera, non di libroidi, pseudosaggi, diari, romanzi epistolari, d'altronde le lettere sono lettere, non narrativa immersiva, anche se sono lettere inventate, oppure libri gadget degli youtuber. Le differenze concrete e pratiche tra prima e terza persona e come scegliere quando usarne una e quando l'altra sono discusse nella prima parte del mio corso avanzato. Non è un argomento banale per niente e non è una scelta che si può fare a cuor leggero, anche se in generale la prima persona è superiore alla terza persona, ma stiamo andando oltre i concetti di un corso base come questo. Il brano, visto poc'anzi, è da tagliare. Come è da tagliare, senza pensarci due volte, qualsiasi pezzo più lungo di uno o due righe che non avvenga istante per istante, perché la narrativa ha il compito di essere vero simile se vuole immergere il lettore e nella vita vissuta nel mondo reale non esistono sommari, non esistono riassulti e non esistono commenti a posteriori. Dovresti essertene accorto. Il lettore, in base ai propri interessi, può sospendere l'incredulità riguardo ai dinosauri nel sottosuolo terrestre, agli stregoni che evocano i 72 demoni di Salomone, al mondo caduto in un nuovo medioevo dopo la guerra nucleare, o agli illuminati che complottano per un nuovo ordine mondiale, ma non crederà a qualcosa che non assomiglia nemmeno vagamente al modo in cui viene percepito il mondo reale. Magari leggerà lo stesso per interesse verso l'argomento, ma la componente immersiva che favorisce la catarsi narrativa gli sarà negata. L'opera avrà fallito il suo nobile scopo narrativo di farci divenire l'altro e quindi di capirlo profondamente. A me capita di continuo con la narrativa scritta da chi non ha seguito il mio corso. Devo stringere i denti e leggere per puro interesse per l'argomento, senza poter godere della reale immersione narrativa. Pensa a questa frase nel testo di prima. C'eravamo addentrati nel bosco quando è arrivata davvero una pattuglia. Davvero un individuo nel corso della propria vita si può imbattere in un riassunto? Come ci si può immergere nella vicenda se invece di un flusso sensoriale ci si ritrova a vivere dei riassunti? Il gruppo sta avanzando nel bosco. Ci sono pattuglie nemiche. A breve il gruppo del protagonista tenderà un'agguata al convoglio. Perché non drammatizzare la vicenda? Bisogna mostrarla. Le parti più inutili dell'avanzata iniziale o di intermezzo tra una parte interessante e l'altra si possono tagliare. Anzi, se non servono, si devono tagliare. E se proprio uno è insicuro riguardo i salti temporali all'interno dei capitoli può mettere un paio di frasi raccontate di congiunzione tra i pezzi drammatizzati. Meglio fare dei piccoli errori che fare uno schifo totale. Volendo, si possono usare i pensieri del protagonista per camuffare il raccontato in un modo più accettabile. Questa è una potenzialità della prima persona ma è anche una trappola in cui non bisogna cadere. È una pezza, non è la forma ideale di scrittura esattamente come le altre memorie a posteriori per cui se non la si usa proprio è meglio. Questi pensieri sono la cosa più vicina al raccontato che si possa produrre senza sbagliare il monologo interiore. In realtà non è proprio vero raccontato perché stiamo mostrando ciò che ora, momento per momento, passa nella testa del nostro personaggio. Trenne nel caso della pezza di congiunzione citata prima in cui manca la natura presente del pensiero che scaturisce dalla percezione. La versione mantenendo la terza persona è chiamata discorso indiretto libero e tende più facilmente a puzzare di narratore esterno al punto di vista. Ma non serve ricordare i nomi per scrivere. Se uno capisce il concetto, allora sa come applicarlo. Ecco, un concetto importante per rimanere focalizzati su ciò che conta e non sprecare tempo sulle stupidaggini che distraggono dall'apprendimento reale. I nomi delle cose sono solo etichette e troppo spesso lo studio delle etichette non viene accompagnato dalla piena consapevolezza del loro contenuto. In questo manuale eviteremo il più possibile le etichette, esempio, narratore autodiegetico, e parleremo invece del contenuto reale, del significato concreto e chiaro già collocato nel contesto teorico della narrativa immersiva. Esempio, il punto di vista focalizzato profondamente. Ciò che non serve alla vera narrativa, quella immersiva, non ci interessa e non te ne farai nulla per imparare a scrivere. Devi diventare uno scrittore, non un collezionista di etichette. Le etichette sono spesso impedimenti all'apprendimento perché creano vincoli linguistici che riducono la realtà causando una perdita informativa. Chi crede di imparare perché impara etichette non impara in realtà nulla. La vera conoscenza è solo quella dei concetti reali e si tollerano le etichette solo nei limiti in cui aiutano a semplificare la comunicazione senza banalizzarla o intrappolarla. Questo però è un discorso che si applica alla conoscenza in generale e solo molto secondariamente alla scrittura che ne è colpita forse meno di altre discipline. Torniamo su prima e terza persona. Ciò che sarebbe tollerabile con fatica usando una terza persona poco focalizzata o una telecamera neutra ma nel corso avanzato spiegherò che la sua esistenza in narrativa è tecnicamente impossibile diventa intollerabile con la prima persona perché la prima persona rappresenta l'apice della focalizzazione sensoriale e pretende l'immersione massima. L'autentica penetrazione del lettore nel personaggio con tutti i rischi di regetto che questo comporta per funzionare bene. La terza persona può ondeggiare nella focalizzazione se lo desidera e se accade per errore spesso non sembra nemmeno un vero errore ma la prima non può farlo. In realtà non è consigliabile variare la focalizzazione nemmeno in terza persona ma diciamo che è meno atroce che in prima persona. Per chi non ha capito cos'è in soldoni la focalizzazione è quanto siamo dentro il personaggio. Mostriamo solo azioni e pensieri diretti del personaggio in terza persona quindi terza poco focalizzata oppure soggettivizziamo anche le sue percezioni facendola somigliare alla prima persona terza molto focalizzata. La prima persona può scegliere con cura i dettagli per nascondere qualcosa può autoconvincersi di qualcosa di sbagliato anche per autodifesa e confondere così il lettore eccetera e può essere l'apice dell'inaffidabilità dell'autoillusione nel modo in cui interpreta i fatti ma non può essere poco immersiva o poco focalizzata. Ora guarda qui e così il giorno seguente mi trovo in compagnia di altri quattro dereliti a camminare lungo i campi sabbiosi del Po in cerca di traccia del nemico. Quali sono gli errori di questo brano? Uno è raccontata e quindi fa schifo a priori perché rovina la lettura ma se proprio sentiamo che non possiamo farne a meno si può correggere l'errore numero 2 e usare il tutto come breve congiunzione raccontata tra due scene distinte. Errore 2 C'è un riferimento al giorno seguente come se il protagonista stesse raccontando la vicenda al lettore per cui essendo già accaduto tutto può mettere in rapporto i diversi giorni con queste formule e così il giorno seguente non suona proprio come un raccontato fatto a voce? Qualcosa in stile c'era un casino tale in piazza che ho chiuso occhio fino alle 5 del mattino e così il giorno seguente mi sono svegliata ai due del pomeriggio? Ecco. Questo è il raccontato peggiore. Non solo non aiuta in nessun modo a godersi la vicenda ma urla al lettore è tutto falso è solo una storiella te lo sto raccontando io. Guardiamo questo brano. In vista delle prime case di Monzambano bianche sotto il sole di mezzogiorno Cordino avanza la proposta di una visita alla mignotta del villaggio è più di un mese che per un motivo o per l'altro non riesce ad andarci i motivi in realtà si deducano al fatto che Cordino è quasi sempre impegnato in servizi punitivi e il gonfiore laggiù comincia a farsi fastidioso così dice uno dopo l'altro decliniamo il suggerimento e il caporale Lorenzoni che all'ultima parola ratifica la risposta qui sopra l'autore non si è fatto mancare nemmeno il discorso indiretto vero marchio del raccontato becero come mai? semplice capire il problema hai mai sentito con le tue orecchie un discorso indiretto? in che modo riassumere il contenuto delle battute di dialogo dovrebbe rendere l'esperienza dettagliata vivida e coinvolgente come se fosse reale? se uno impara a porsi le domande sul realismo non scrive certe cose e infatti il problema più diffuso tra gli autori è un problema di metodo non si fanno domande adeguate riguardo a come scrivere le scene non entrano davvero nel personaggio mancano le basi come detto prima e per questo il manuale parlerà continuamente di immersione perché da questo obiettivo da soddisfare nascono le altre regole pensa a questo brano i trucchi ci si avvinghiano contro e finiamo in un casino colossale io meno pugni un po' in tutte le direzioni confidando di avere intorno più nemici che accompagni ti sembra un errore possibile solo nel test degli autopubblicati o degli autori dilettanti? non è così? ricorda che quanto hai letto fino ad adesso in questo corso base quasi tutti gli editor e scrittori italiani non lo sanno hai già adesso un livello di conoscenze superiore a quello di chi lavora nelle grandi case editrici il livello là fuori è bassissimo ecco un esempio identico di raccontato tratto da un famoso romanzo fantasy italiano Nial della Terra del Vento di Licia Troisi abbatté il primo nemico di slancio spinta dall'impeto della corsa quindi ne vendono infiniti altri senza interruzione attenzione questo romanzo non è scritto tecnicamente peggio di tanti altri romanzi fantasy italiani anzi ha una sua semplicità lodevole che è sempre meglio dei voli linguistici baroccheggianti il problema sono per lo più i contenuti assurdamente ingenui e stupidi l'opposto di come dovrebbe essere un buon fantasy e la buona narrativa in generale comunque visto come l'errore che noi notavamo così facilmente in un brano inventato poi lo troviamo in famosi romanzi pubblicati da grandi editori ecco il problema di simili errori è che la vicenda non è stata pensata con l'idea di dover far vivere al lettore i fatti qui e ora minuto per minuto tramite il corpo i pensieri e le emozioni di uno dei personaggi il cosiddetto punto di vista inglese point of view il personaggio nel brano qui crucchi è diventato un narratore reale uno che sta davvero parlando al lettore invece di esserlo solo in senso lato lo scrittore ha unito in modo poco funzionale il personaggio e il narratore tramutandolo così nell'autore in senso metanarrativo il protagonista è diventato l'autore perché parla il lettore non va bene noi dobbiamo entrare nel personaggio e vivere i fatti con lui non sentirlo riassumerci le cose servono più dettagli concreti servono più scene vissute qui e ora tramite il personaggio per il lettore tutto sta avvenendo mentre legge sia quando è scritto al passato che al presente e in teoria non dovrebbe esserci nemmeno un mezzo accenno di riassunto di raccontato solo scene vivide e tagli prima ti ho indicato che se proprio non riesci a fare di meglio puoi lasciare un paio di righe di raccontato di connessione tra due scene ma non è una soluzione ideale e non è teoricamente corretta fallo solo se non riesci a fare di meglio agli inizi ok? la cosa più vicina al raccontato che si può usare correttamente nella descrizione all'interno di una scena ciò che non è né pensieri diretti né dialoghi non è il vero raccontato ma va inteso come la scelta di pochissimi dettagli quando la mancanza di interesse del punto di vista su certi elementi richiede che siano appena accennati e non drammatizzati a fondo non è il vero raccontato del narratore che sintetizza è l'uso corretto del mostrato nei confronti degli elementi da citare ma poco significativi un mostrato diciamo minimale se vogliamo chiamarlo così come dire che certi tavoli sono degni di righe e righe per il loro ruolo nelle riflessioni del personaggio che li analizza mentre altri tavoli sono solo dei tavoli buttateli giusto per dire che ci sono nel corso avanzato c'è una lezione dedicata all'argomento quella singola lezione senza contare tutte le altre posso dire senza dubbio che ha salvato dal pericolo di non capire niente sull'uso dei dettagli un sacco di scrittori e lo so perché li ho formati e portate alla pubblicazione questo non vuol dire che si debba mostrare tutto seppur poco quando il punto di vista entrerà in una stanza noterà solo gli elementi che più realisticamente possono attirare la sua attenzione e di questi noterà con maggiore dettaglio quelli che lo interessano di più non noterà elementi totalmente insignificanti per lui e inutili per far capire cosa accade se il personaggio entra nella propria stanzetta difficilmente potrà descriverla con la dovizia di particolari di chi è entrato in una stanza mai vista prima per curiosare il poster con un cantante famoso sopra il letto verrà notato subito da uno sconosciuto che entra nella camera di una ragazzina ma la ragazzina stessa invece non lo noterà affatto perché per lei è normale a meno che lei non abbia motivi di soffermarsi apposta su quell'elemento per un qualche altro motivo torneremo a questo esempio con la stanza e il poster più avanti in un'altra lezione se i dettagli su un oggetto diventano molti intere frasi dedicate allora si intende dire che il personaggio sta osservando con attenzione l'oggetto non dirai quindi Mario osservò con attenzione l'orologio appenduo notando il regno rovinato e le lancetta dei minuti spezzata non si leggeva bene l'ora ma aiutandosi col dito capì che segnava i 17.45 dirai invece qualcosa di più simile a il legno dell'orologio appendolo era a tratti scolorito e i fori scavati dagli insetti lo butteravano come il vaiolo la lancetta dei minuti era spezzata e il mozzicone rimasto non permetteva di capire bene l'ora Mario sfiorò il vetro col dito e solcò la patina di polvere dal mozzicone fino al perimetro 17.45 nota come le formule generiche legno rovinato aiutandosi col dito sono diventate dettagli concreti e visivi tutto questo si ricollega alla spiegazione sul sommergere l'io ovvero negare i verbi di percezione e lasciare solo le percezioni stesse troverai questa spiegazione più avanti nel corso base si mostra poco se l'oggetto serve solo a dare un senso di realtà e di atmosfera facendo da contorno come spiegava anche Flaubert si mostra molto se l'oggetto attira in modo particolare l'attenzione del personaggio e infine si taglia se l'oggetto è irrilevante o il personaggio non lo noterebbe mai meglio due elementi che danno una certa atmosfera a bozzati e uno ben dettagliato rispetto a 30 elementi inutili che allungano solo il brodo mai avere paura di tagliare l'eccesso si scrive con l'esplicito obiettivo agenda creativa di massimizzare l'immersione narrativa l'illusione in una vicenda interamente viva e credibile cedere alla vaghezza o al raccontato ovvero qualcosa che non esiste qui ora ma è un riassunto a posteriori di azioni elementi o scene distrugge l'illusione di verità mostrare è il segreto della narrativa ricercato più o meno bene dai migliori autori fin dai romanzi della seconda metà dell'ottocento i dettagli vividi concreti e chiari stimolano la mente del lettore attirano la sua attenzione e lo rendono partecipe delle vicende letteralmente il cervello reagisce durante la lettura e l'assenza di dettagli lo lascia spento mentre l'ora arrivo lo accende permettendoci così di vedere la scena ma servono dettagli precisi chiari non termini vaghi e generici quelli lasciano il cervello tra virgolette spento mostrato non raccontato chiaro? ci torneremo nel corso avanzato con intera lezione dedicata al cervello durante la lettura anzi se vuoi vederla iscriviti a me in list e ti faccio accedere al video trovi il form su agenziaduca.it ora una chicca da The Craft of Fiction di Piercy Labbock l'arte della narrativa non comincia finché il romanziere non pensa alla storia come a qualcosa da mostrare da esibire in modo che si racconti da sola deve sembrare vera e questo è tutto non è resa vera semplicemente raccontando che è vera attraverso la percezione del personaggio punto di vista l'autore sceglie quali sono i dettagli significativi per la storia e per la caratterizzazione dei personaggi e li mostra al lettore per esempio l'autore o il personaggio in veste in narratore se preferiamo vederla così non dirà introducendosi con un commento fastidioso e invadente che Gino è scemo o che Gino è disonesto costruiremo una scena in cui la stupidità o la disonestà di Gino siano rilevanti per la storia nel momento in cui il lettore vedrà Gino per quello che è non avrà bisogno che l'autore appaia con il megafono da dietro il mondo della storia e gli urli ciò che deve pensare di Gino ciò che il lettore può pensare di Gino dipenderà dai fatti in sé mostrati e dal filtro psicologico del personaggio punto di vista che interpreta quindi personaggio come punto di vista qui e ora non come narratore a posteriori ricordati che non vogliamo un diario un punto di vista estremamente profondo e ben fatto può e deve convince il lettore della propria opinione come se fossero i veri fatti c'è spazio anche per i pensieri astratti nel punto di vista naturalmente ma non devono sostituire i fatti percepiti meglio concentrarsi sul soggettivizzare la percezione mostrata e ridurre al minimo i giudizi puri sconnessi dall'azione ci torneremo dopo ti faccio un esempio inventato di raccontato infido del genere che sembra mostrato perché non è un riassunto degli eventi e invece non lo è arrivano gridogino eccitato eccitato ecco eccitato non mostra nulla è un giudizio che nasce da qualcosa di concreto nel comportamento e nel tono della voce gridò e ok contribuisce bene concreto e udibile quando vedi una persona eccitata cosa ti fa pensare che lo sia la gente ha forse un cartello al collo hai mai visto un tizio dal volto impassibile che regge sopra la testa un cartello che dice eccitato gli crederesti vanno scelti i dettagli concreti che fanno capire che si è eccitato e il fatto che si è eccitato deve ovviamente avere un ruolo nella scena se era lì tanto per perché metterlo in realtà se il personaggio è costruito bene noi dovremmo poter desumere la sua eccitazione perfino dal solo contesto ovvero aver già costruito nella nostra mente un'immagine di lui che smania per qualcosa poi quel qualcosa avviene e noi non sentiamo solo gridare ma lo immaginiamo da soli senza indicazioni gridare eccitato sintetizzando se è importante che lui sia eccitato allora tutto il contesto ci stimolerà a immaginarlo eccitato e lui agirà e parlerà in modo utile per sostenere in modo coerente questa idea di eccitazione se invece il contesto non ci invita a immaginarlo così allora è facile che il dettaglio stesso dell'eccitazione sia irrilevante questo effetto è difficile da realizzare ma è quello che Chekhov ottenne quando descrisse la notte e il luccichio della luce lunare su un vetro e il pubblico immaginò da sera luna piena ci torneremo dopo questo è in un certo senso il vero significato della teoria dell'iceberg di Hemingway troppo spessa fraintesa perché citata da sola senza collocarla nel contesto della storia del mostrato la teoria dell'iceberg di Hemingway dice che la narrativa è come un iceberg perché lo scrittore deve conoscere per intero ciò di cui parlerà anche se al lettore nel testo scritto ne apparirà solo una piccola porzione come di un iceberg sono ottave visibili e sette ottavi sono sommersi dettagli concreti sceglili con cura costruisci la scena con un punto di vista coerente e avrai l'atmosfera e l'atmosfera valore aggiunto più grande della semplice somma di dettagli creerà nella mente del lettore nuovi elementi adatti alla scena senza che tu abbia dovuto nemmeno scriverli questo è il vero iceberg una piccola porzione di dettagli ben scelti costruisce l'atmosfera della scena ed evoca implicitamente tutto il resto che non è scritto questo l'iceberg dei dettagli significa lasciar posto alla fantasia del lettore non è la pigra interpretazione che danno i cattivi editor per comodità di sostituire il mostrato col raccontato sperando poi che sia il lettore non si sa come a immaginare nel dettaglio ciò che è stato solo riassunto o espresso con parole vaghe il cervello umano non funziona in questo modo quindi scrivere così e poi fregnare che a lettori non piace e da poveri imbecilli come poi sono buona parte degli editor scrivere male non è lasciare il posto alla fantasia del lettore e abdicare al ruolo dello scrittore per faticare meno e sperare che il lettore immagini dettagli da solo e no non lo farà come dimostrato dall'uso della risonanza magnetica funzionale sul cervello di individui durante la lettura solo i dettagli concreti evocavano immagini concrete spiacente gli elementi vaghi non accendevano nulla l'omissione rafforzando lo spazio dato ai dettagli migliori rende ancora più potente l'effetto della descrizione perché non la diluisce questo principio retorico già noto ai tempi di Aristotele che loda la forza della brevità nella sua poetica è anche alla base del motivo per cui si consiglia di usare meno aggettivi possibili al massimo uno per sostantivo è scelto sempre con gran cura di meno è di più o come diceva Gardner uno più uno fa metà ma quello eccitato in realtà sarebbe un errorino minore perdonabile preso da solo e anche ignorabile nel senso che se il resto del capitolo è buono non è certo un errorino ogni tanto a far fuggire il lettore ma se gli errori si moltiplicano e si infilano in ogni pagina diventa una manifestazione di un problema alla base nel modo di lavorare ovvero di come si immagina le scene prima di scriverle e quando si ragiona male non si fa un errorino ogni tanto ma se ne fanno di continuo a ogni paragrafo a ogni capoverso anche a ogni frase il vero problema in un test è quando di questi piccoli errori del raccontato blando in frasi altrimenti giuste o dei dettagli inutili che ammazzano la lettura ce ne sono troppi in giro è appunto un problema alla radice non si cura intervenendo sui sintomi sui singoli errori ma bisogna agire anche sulla malattia del ragionamento scorretto che li genera talvolta è un problema comportamentale che si corregge fornendo semplicemente delle regole da seguire e altre volte è un problema cognitivo che origina in una visione disfunzionale malsana di cosa sia la scrittura o di cosa sia la libertà dell'autore e finché non lo si cura l'autore non riuscirà a convincersi ad applicare le regole in alcuni casi è possibile intervenire sulle frasi con dei semplici tagli qua e là senza bisogno di riscrivere tutto ti faccio un esempio giro le spalle e mi esibisco nella mia personale versione di nuota a quattro zampe dove non arriva lo stile sopperisce l'energia la strizza che il crucco mi ha messo addosso si dimostra sufficiente a farmi procedere con una certa celerità in un balino mi ritrovo a fendere le acque sono in mezzo al fiume il fatto che in un baleno si trovi in mezzo al fiume indica a sufficienza la celerità come il nuoto definita a quattro zampe suggerisce che non sia proprio un virtuoso della bracciata rimane il problema del mi esibisco nella mia personale versione di nuoto che suona comico quando la situazione invece è drammatica il crucco vuole ucciderlo e questo non vorrebbe essere un testo comico è un po' sopra le righe ma è stato impostato come un testo d'azione con pure degli elementi drammatici quel commento è quindi fuori luogo ammazza la tensione e impedisce la costruzione di un'atmosfera coerente con lo scenario di morte e paura della battaglia il protagonista è in fuga dal nemico senza più il proprio veicolo e da un momento all'altro potrebbe morire in modo orrendo sistemiamo il possibile senza dover buttare tutto e rifarlo giro le spalle e mi esibisco nella mia personale versione di nuoto a quattro zampe in un baleno sono in mezzo al fiume è stato un massacro ora manca un po' di carattere e non si può sempre scrivere in modo così scarno anzi meno lo si fa e meglio è ma almeno abbiamo tolto i problemi più grossi senza dover cancellare tutto in quest'altro brano il personaggio ancora dentro al proprio mech e sta penetrando di notte nel territorio nemico con la retroguardia dopo che l'artiglieria ha martellato la zona pochi minuti prima passiamo vicino a un granchio ribaltato le zampacce rivolte alle stelle una delle due è ancora agitata negli ultimi spasmi e nella luce incerta qualcosa si muove nel corpo centrale forse il pilota è rimasto intrappolato tra le lamiere il cannone folgoratore del granchio è appiattito sul terreno gli calco sopra le mie due tonnellate piegandola d'arco un'azione tutto sommato priva di utilità che tuttavia mi concede un solleticante senso di freschezza considerando quante volte ho rischiato la pelle per colpa di quei gingilli parole di troppo da sfoltire e l'inciso coi trattini non è il modo ideale di comunicare i dettagli serve al più al dare l'idea di un pensiero che si sovrappona l'azione ma comunque un modo un po' rigido di scrivere perché blocca il flusso dei dettagli e va usato il meno possibile lo toglierei la luce incerta è sottintesa dal fatto che sia ancora buio e notte e che il mech nemico modello granchio rivolga le zampacce alle stelle la considerazione sul fatto che lo calpesti perché spesso hanno usato armi simili per ucciderlo è inutile e allunga solo il brodo ecco un possibile intervento che non richiede di ripensare da zero il brano anche se quel mi concede un solleticante senso di freschezza rimane comunque vago e bruttino per cui sarebbe meglio sostituirlo con qualcosa di diverso comunque volendo si può aggiustare così passiamo vicino a un granchio ribaltato le zampacce rivolte alle stelle qualcosa si muove nel corpo centrale forse il pilota è intrappolato tra le lamiere il cannone folgoratore del granchio è appiattito sul terreno gli calco sopra le medotonnellate piegandolo ad arco un'azione che mi concede un solleticante senso di freschezza non è un capolavoro ma ora è narrativa di un livello discreto se tutti i romanzi fossero almeno a questo livello non mi troverai come moltissimi alti lettori a fare lunghe pause alla narrativa per rifugiami nella qualità nettamente superiore della saggistica torniamo alla teoria in senso più generale scegliere i dettagli concreti è una parte determinante del ruolo dell'autore implicito ovvero il tuo stile ciò che confrontando più opere simili scritte da te e altre paragonabili di un altro autore fa subito dire questa è di Mario Rossi e anche questa ma quest'altra no la scelta dei dettagli è il tuo marchio personale lasciato sull'opera nonostante tu abbia rispettato le stesse identiche regole mostrare punto di vista trasparenza pochi aggettivi eccetera rispettate da altri autori d'altronde pur disponendo solo di un numero ridottissimo di lettere dell'alfabeto non si scrivono mica testi tutti uguali giusto? né avendo così poche note sul pianoforte tutta la musica fattibile diventa uguale le regole non uccidono la creatività trasforma uno che batte le dita a caso sulla tastiera per poi annoiarsi e lasciar perdere in un compositore più o meno bravo chi pensa che rispettare tutti le stesse regole renda uguali tutti i testi può evitare di preoccuparsi di rispettarle non ha la mentalità né le capacità per scrivere qualcosa di buono quindi è inutile pure che provi a studiare come chi batte a caso sulla tastiera non potrà mai spiegare a competere seriamente con Salieri o con Beethoven per poter studiare il prerequisito è sviluppare prima la mentalità che permetta di apprendere se no si spreca solo tempo e non si para per davvero niente ci torneremo in futuro la mentalità per l'apprendimento per divenire scrittori e robe così stanno trattate anche fuori da questo corso base tutte le cose serie nella vita si fondono sulle regole e sull'abilità di usarla al meglio le cose fatte a caso perché si non permettono di realizzare né la divina commedia né di progettare un impianto a pannelli solari né di salvare vita in sala operatoria il fallimento dell'editoria italiana che ha portato al fallimento della diffusione della lettura in Italia è stato proprio questo pensare che le cose siano fatte bene a naso secondo ipotetiche intuizioni senza riflessione di crociana memoria che rendono lo scrittore un talento irraggiungibile e di conseguenza ogni studio per imparare la retorica da narrativa inutile o perfino dannoso fantastico eh i dettagli concreti che avrai scelto vengono dalla tua sensibilità e dalla tua fantasia di scrittore e sono quelli che hai immaginato dopo aver scartato sistematicamente tutti gli altri dettagli meno validi sono ciò che è in concrete sulla pagina l'unica cosa che conta come altro si potrebbe indicare lo stile se non come quella specifica sensibilità e visione del mondo che porta a scegliere solo specifici dettagli e non altri come diceva Wells imparare a non scrivere è una delle cose più importanti perché quando sai cosa a non scrivere lo scarti rimane di conseguenza solo ciò che va scritto content is king anche in questo senso bene e con questo finisce la sesta lezione se hai domande o dubbi riguardo a questa lezione ti invito prima di tutto a completare lo studio del corso base quasi certamente la risposta è già lì se non sono già disponibili tutti i video puoi trovarlo comunque in forma scritta per intero su agenzia duca.it incluso un comodo pdf idonea alla stampa per altre domande ti ricordo che solo raramente ho tempo di rispondere a causa di tutti i miei impegni con gli scrittori che seguono la pubblicazione e con i miei molti corsisti avanzati fai la tua domanda nei commenti e se sarà interessante realizzerò in futuro un video per risponderti al meglio come ultima cosa ricordati di mettere mi piace a questo video iscriverti al canale e attivare la campanella per essere sicuro di non perderti le novità alla prossima